la pubblicità che fa pubblicità la pubblicità parliamo del settimo libro di lorenzo marini e ce lo facciamo raccontare da lui che segue appunto quello logo sui marchi che segue il visual che segue un paio di romanzi che segue il libro senza titolo e il settimo libro è cosa c'è dietro il mondo delle agenzie di pubblicità o meglio dietro la nostra ed è la pubblicità che fa pubblicità cosa vuol dire questo strano titolo vuol dire che le più importanti agenzie di pubblicità hanno bisogno di farsi conoscere e dunque fanno quello che si chiama new business che in america non esiste esiste il networking esiste la conoscenza delle persone l'abbassamento del livello di resistenza e poi l'approfondimento per quanto riguarda noi noi non abbiamo nessuno in agenzia che promuove l'agenzia ho il privilegio di avere inviti e clienti che chiamano e questo fa onore al mio gruppo e alla nostra storia è che dopo vent'anni di indipendenza abbiamo deciso di raccontare come abbiamo fatto la pubblicità alla pubblicità c'è qualcosa di un po snobistico se vogliamo nel chiamare pubblicità quello che adesso si deve chiamare comunicazione quello che adesso deve essere un progetto integrato una piattaforma perché si chiama advertising qualcosa che una volta chiamavamo reclam ecco chiamare la pubblicità è un modo molto italiano orgogliosamente provinciale per chiamare con un nome italiano la stessa cosa che in america chiamano advertising e raccontiamo vent'anni di autopromozione di annunci fatti in modo diretto nei quotidiani corriere repubblica stampa messaggero e anche nei periodici specializzati nelle testate del nostro settore e il bello è che dai social abbiamo imparato che non devi mai parlare tu di te stesso ma devi chiedere agli altri di parlare quindi da dal direttore del corriere della sera di io donna di repubblica di sole 24 delle tutte le nostre testate del settore abbiamo importanti contributi e ogni giornalista commenta una pagina che sia di annuncio diretto che sia di annuncio indiretto faccio un esempio un'operazione d'arte la creazione di un profumo un pezzo di design sono tutte operazioni fatte in questi vent'anni una all'anno ecco trovo che sia bello raccoglierle assieme come le collane come come le perle di un'unica collana per far vedere che dietro c'è una brand personality di un'agenzia che crede nella creatività della comunicazione e nella cultura umanistica Grazie a tutti Grazie a tutti